Calori sceglie Cavalli come sterno basso di destra al posto di Tafani. Rossetti torna al centro del reparto a fianco di Capitan Scoscini. Condai è il trequartista con qualche compito aggiuntivo di copertura. Questo l'undici contro lo Scandici che in attacco vede come principale bocca da fuoco l'ex di turno Filippo Mugelli. Cronaca rinnovata dopo sei minuti. Corner di Guidelli respinge Scarpelli lungo. Zaccagnini a scendere da distanza trova lo specchio. L'estremo San Giovannese rimedia in angolo. Si arriva fino a metà frazione per la nota successiva con Mencagli che approfitta del recupero palla di Guidotti sulla trequarti. Da rivedere decisamente però dalla mira finale. Il ritmo non sale. Hanno la meglio le difese sugli attacchi da ambo le parti. Tettativo di Baldesi dal limite per risolvere una mischia in araospite. Anche in questo caso pali lontani dalla traiettoria. Prima dell'intervallo Guidotti ha l'occasione da palla ferma. La battuta stretta e la sfera si esaurisce ancora fuori. Impossibile sapere cosa gli allenatori abbiano detto negli spogliatori. Fatto sta che il tema prosegue anche ad inizio ripresa. Ordinare amministrazione per Scarpelli su Ferretti dopo 70 secondi dall'avvio della frazione. Decisamente più apprezzabile nel compresso lo scatto del neo entrato Sacca confitta su Piccardi e conclusione dalla linea di fondo sulla quale è ancora attento il portiere valdannese. Minuto 25 insiste lo Scandici. La difesa del Mazzocco si dimentica sul calcio di punizione di Manganelli che si ritrova il pallone sul destro ma non imprime forza e angolazione. Quest'inerzia produce alla fine il vantaggio fiorentino sulla palla riconquistata da De Marco e c'è la verticalizzazione per Ferretti. Abile il numero 9 a perfezionare il diagonale per l'1-0. La prima reazione purtroppo è nervosa in senso negativo. Brutto fallo di Baldesi su Schilisgallo, rosso diretto che ci sta tutto per il giovane centrocampista. Secondo dei 5 minuti di recupero, nuova mischia davanti a Timperanza. Il direttore di gara ferma tutto per ammondire Mencagli e così arriva la seconda sconfitta consecutiva. Ultima gara del Vina 19 a Cannara, domenica prossima.